Ben trovati insieme, allora è il momento dell'approfondimento, parliamo oggi di un'interessante ricerca condotta dalla Fondazione Cesvi a Bari insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, il garante dei diritti del minore, perché non è facile essere bambini nel sud Italia e la Puglia è una delle regioni che presenta i maggiori rischi, però andiamo nell'ordine, ne parliamo questa mattina con il responsabile Progetto Italia di Cesvi, Alberto Barenghi. Buongiorno, benvenuto, è andata via la comunicazione, però ci collegheremo tra pochissimo, appunto come vi dicevo, questo interessante indice regionale sul maltrattamento e la cura dell'infanzia in Italia che è stata realizzata dalla Fondazione Cesvi, è presentato nei giorni scorsi a Bari e abbiamo in collegamento con noi questa mattina, eccolo, lo vedo inquadrato, Alberto Barenghi, responsabile Progetti Italia Cesvi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per questo invito. Grazie a voi per averlo accettato. Allora, spieghiamo subito che cos'è l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia. L'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia è un'indagine statistica che raccoglie 64 indicatori Istat per misurare in che modo le regioni italiane reagiscono al fenomeno del maltrattamento e della trascuratezza all'infanzia. lo fa prendendo in considerazione quelli che sono i fattori di rischio regione per regione, quindi i problemi che possono condurre a situazioni di maltrattamento e abuso verso bambini e bambine e per converso prende in considerazione anche i servizi che pubblico e privato mettono in campo per intervenire a prevenzione e contrasto del maltrattamento all'infanzia. In questo modo definisce una classifica delle regioni italiane che dalla più performante alla meno performante sono messe in fila e in qualche modo danno un'indicazione rispetto a quello che la politica dovrebbe fare per intervenire sul fenomeno. Ecco, che cosa emerge di significativo? Dunque, tutti gli anni appunto noi presentiamo il nostro indice, questa è la sesta edizione. Ci sono diverse regioni che continuano ad essere le più performanti, le più significative dal punto di vista dei minori fattori di rischio e più servizi, sono Emilia-Romagna, Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre abbiamo in fondo, per così dire, la nostra classifica, le regioni del sud Italia, tra cui appunto la Puglia al 18esimo posto, seguita poi dalla Calabria e dalla Campania. Si tratta di una classifica che noi aggiorniamo circa ogni uno o due anni e ovviamente se cresce tutto il paese le posizioni rimangono uguali, per cui è necessario talvolta fare dei confronti serie storiche specifiche regione per regione e questo è quello che abbiamo fatto per la Puglia e presentato il 18 di ottobre presso il Consiglio regionale. Ecco, citava la regione Puglia, quindi come dire, come sempre la maggior parte delle regioni del sud Italia sono fanalino di coda, invece, come diceva Emilia-Romagna, Trentino e Veneto sono ai primi posti. È stato presentato in particolare appunto un approfondimento sulla regione Puglia, che cosa è venuto fuori? Dunque, noi abbiamo presentato un approfondimento che mostra un trend degli ultimi 5-10 anni di andamento di alcuni indicatori sulla regione. Ovviamente la premessa da fare è che la pandemia ha colpito in tutte le regioni, in tutta la nazione, e quindi molti, soprattutto per quanto riguarda i fattori di rischio, ci è stato un tracollo tra il 2020 e il 2021, nonostante alcuni fattori fossero in netto miglioramento. Se prendiamo in considerazione, ad esempio, la salute mentale, vi vediamo in Puglia un miglioramento di questo fattore fino al 2020 e poi un abbassamento della curva negli anni successivi. Altri indicatori che sono critici per la regione Puglia sono l'obesità infantile. Un bambino su tre in Puglia è sovrappeso, secondo i dati Istat. E l'altro elemento che è tra i più significativi per che conduce poi appunto a situazioni di maltrattamento è la condizione di povertà delle famiglie. Sappiamo che in alcune zone della regione Puglia questo tasso è molto alto. D'altro canto però è una regione ad alto potenziale. Ci sono delle reti di collaborazione solide tra i servizi. È una regione che ha un numero di pediatri di libera scelta molto elevato rispetto alle altre regioni e che sta migliorando anche in termini di servizi per la genitorialità. Quindi malgrado ci siano i fattori di rischio importanti che pesano, è una regione che sta decisamente facendo dei passi in avanti. Quindi fattori di rischio ci sono, sono alti però come ha detto lei stesso è una regione ad alto potenziale. Quindi potremmo dire che questa è la fotografia finale che viene scattata della Puglia e quale è la fotografia finale del nostro paese in generale? Sì, è corretto. Per la Puglia questa è la fotografia che possiamo dare. Rispetto al nostro paese in generale sappiamo che è uno dei paesi europei con il più alto tasso di povertà assoluta e questo incide su bambini e bambine. Abbiamo bisogno di un piano di intervento per il benessere dei bambini e le bambine che destini risorse e impegno importante da parte delle istituzioni centrali e poi delle istituzioni locali per intervenire. Noi come CESVI siamo presenti con il nostro programma Casa del Sorriso su tutta la nazione. Abbiamo un progetto di una Casa del Sorriso a Bari nel quartiere San Paolo che si basa di fatto su una raccolta fondi da privati, singoli cittadini, aziende, fondazioni e quindi abbiamo bisogno anche del supporto di chi ci sta guardando e ascoltando. Allora, grazie per essere stato con noi. Torneremo sicuramente a parlare di queste interessanti indagini, di questi report che realizzate. Grazie Alberto Barenghi, responsabile Progetto Italia per CESVI. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E allora Giulia, io ti restituisco la linea, se vuoi poi più tardi possiamo dare spazio ad altre notizie, ad altri aggiornamenti.